Cordiano Dagnoni è il nuovo presidente della FederCiclismo, un sogno che si realizza? Sì, più che un sogno è la realizzazione di un lungo lavoro, un lavoro fatto con tanta umiltà e pazienza, partendo dalla base, toccando tutti gli aspetti, perché ho fatto l'atleta, ho fatto il tecnico, ho fatto l'organizzatore e poi ovviamente alla mia passione, che è quella di pilota Derni, alla quale adesso purtroppo dover rinunciare, questo è un sacrificio che mi tocca, però poi all'interno del comitato regionale, anche lì ho fatto tutti i passaggi, dal tecnico della pista al consigliere, vicepresidente, vicepresidente Vicario, tutte le cose piano piano, fino ad arrivare a fare il presidente di una regione molto impegnativa come la Lombardia. Credo che questa sia un'esperienza imprescindibile per poter affrontare poi un impegno così gravoso come quello che è la presidenza nazionale, però sono confidente di riuscire a avere dei collaboratori in Consiglio federale e poi trovare anche dei collaboratori nominati per le commissioni in grado di svolgere al meglio il lavoro. Il mio motto che mi ha trasferito mio papà è sempre stato delega tutto tranne il controllo, per cui ho conto di fare questo, di trovare personale collaboratori competenti che hanno voglia di fare, di fare il bene al ciclismo, al quale delegare per fare in modo che si sentano motivati, responsabilizzati e gratificati della loro posizione. Io oggi, se mi consentite, devo fare una cosa particolare. Nel Consiglio federale che avrò ci sarà un consigliere in più, Mauro Valentini, che è rivolato in cielo e sarà il mio consigliere da lassù al quale io veramente rivolgo un pensiero di cuore. Grazie Presidente, innanzitutto complimenti. Si è tolto la cravatta e ha detto che è ora di lavorare. Sì, sì, perché poi questa campagna elettorale è stata durissima. Per me è un'esperienza forte, intensa, ma credo che il lavoro impegnativo sia quello da ora in poi. Questo è un gesto simbolico, l'ho fatto l'altra volta quando sono stato eletto Presidente in Lombardia e è piaciuto e ho detto perché non replicarlo, visto che comunque ha portato bene e sono riuscito a dare dei buoni risultati a un comitato così importante come quello Lombardo.